Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Grazie! Grazie, scusami, ci sono delle cose che su Twitch sarebbero. Posso dire che sia reciproco. Si, cazzo! Mi hai conquistato. Sono contentissimo. No, Silvio, non ho capito il pene? Cos? Sarebbe un problema. Se fosse, sarebbe un problema. No, no, minimamente no, perché siamo nel 2021 e io ho anche un po' la figa. No, no. Perché c'è gente che sta spammando col Pipo. Ah, no, sono spammando po-po-po-po-po. No, po-po-po-po vuol dire po-po-po-po-po-po-po. Tocchio sembrava molto più figo, comunque. Cioè... Un po' troppo. Dai, ma mi... Dai, ah, ma mi vuoi dire che Rubino non sembra più figo su TikTok? Ma è vero, un po' troppo. No, no, scusami. Io prima l'ho visto, ho detto... Non è vero, Miriam, stai tranquilla. No, c'è rimasta male Miriam. Aspetta che ti tiro fuori il lucullo. Ti sono spesa. Aspetta, scusami Miriam. Cioè, è proprio tesissimo in questo momento. Eh beh, sì, davanti a diecimila persone, cioè. Pesa tanto? No, 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 pesa niente. Peserano tre chili, tre, quattro chili. Sì, vabbè. Tu veramente, i pesi, cazzo, li hai studiati al cepo. Bello. Molto, molto spaventato. Mica, guarda come trema. Erika. Bastardo. Ma sei uno stronzo. No. Non so neanche cosa sia. Ma tu sai che è la cosa peggiore da dire a una ragazza questa cosa qua? Io non ci credo. Veramente. Ma zio, sei proprio stronzo. Non so cosa sia. Proprio ieri, capito? Quindi non l'hai detto neanche a caso. No. Te lo giuro. Non so cosa sia. No, ma sei un pezzo di merda, zio. Guarda come svalga dopo aver fatto la scelta. Faccio un pezzo di merda. Allora, se fosse entrato c'era la sigla del Natale, Frerito, che è il mio canale. Bello. Ok. Ma che cazzo è? Mi fai impazzire, mi fai impazzire, tu mi fai impazzire, mi fai impazzire, anche se mi fai morire. Quanto non ci so stare, mi fai impazzire, cazzo. Perché non pensavo che Blancolo avesse prodotta in cesto sta cazzo. 14. Siggasati, perché all'inizio tutti si gasano un botto. Che schifo. Ciò qua per il monegno. Ok. No, non mi intendo di tette, perché di solito sono abbastanza sfortunato trovando il tette. Vai, vai, uno in uno. Ok, 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 ci siamo. Scusami, abbiamo un attimo un caffè, perché sono un po' stressato almeno. Perché sei stressato? Eh, ma ho lavorato oggi, sono un po' cotto, un po' stanco. Che lavoro fai? Dai miei amici sono cantati. Basta, però, non ho raccontato più a nessuno. No, infatti, direi che oggi hai fatto un grande errore. Fa paura? No, a me la dà ci sta, sono punti di vista, sono punti di vista. Però, ci fate caso, guardate, la sua storia del calcettone è un po' come la sua faccia, è illuminata da una parte, da una parte no. Quindi, se c'è proprio... Se è tutto così... Occhio. Oddio. No, no, vedi, no, ma pure se ti espolti è sempre tipo... No, no, adesso è giusto, adesso è giusto. No, è più senza muoio. Grazie, bro. No, ma chi saluta da questo bacco. ...dinsigno. Eh, apri, gli ha dato una testata fortissima, tra l'altro, l'amico. Vabbè, una testata dinsigno è come una cazza. Questi dicono, questi dicono, scheisse, scheisse, scheisse. Oh, Jeff Bezos. Oh, Jeff... Lukaku, Lukaku dell'Inter. Bravo, bravo, insignia, bel gol. Bravo. Bravo. Bravo, bravi, bravi. Eh, lui ce l'ha quel tiro lì a giro. Vedi, fa sempre così, si libera al destro e pam. Ma che bello. Devo dire, un'Italia con carattere, un'Italia che vuole il gol, vuole concretizzare l'altro. Lavorato oggi è un po' cotto, un po' stanco. Che lavoro di fare? Mi ha fatto il campo. Io faccio il dottor, faccio il fisioterapista. Sì. Difficente. Eh... Che adesso, comunque, è intoccabile, ragazzi. Puoi chiedermi quello che vuoi, tanto io veramente non ho peli sulla lingua. Cioè, io sono sul culo i peli. Eh, tu volevo dire, ma... Dimmi. Ma che cazzo dici? È dalle cose più buone che avevamo, guarda. Oddio, santissimo. Franco, vieni a vedere qua dentro, vieni a vedere qua dentro, Franco. Ma che è diventata una rapina? Scusate, pago io. Aiuto, aiuto. Posso pagare, Franco? No. No. Ok, ora? Ora, voglio anche un'altra cosa. Voglio che accetti le motte che ti sto mandando. Cioè, voglio che accetti quello che ti sto... Che ti sto per offrire. No! Se no, ti sparo in testa. Cosa vuol dire, cacciare quello? No, adesso devi accettare quello che ti sto per offrire, perché non ho proprio bisogno. Se no, ti sparo. No. Spostati, Daniele. Oddio. Accetta. Accetterò. Aiuto. Ma che cazzo... Ma che... Ecco, questo è karma. Si giri, si giri, signora. Grazie. Si giri. Basta. Ma che si giri? Non avevo così tanto bisogno, bastava chiedere. No, vabbè, però l'ho voluto chiedere quelle le maniere. Scusate per questa incursione. Chiedo veramente... Ma che cazzo? Siamo stasera da green, come al solito, e da omi per il più. Era un mobile, non ero, era un mobile. Era un mobile. Fia, che cazzo ha devastato l'intero condominio. Tu sei proprio il mio allievo, te lo dico proprio. Ah, e anche tu Rubino ti diverti. Oh, io ho visto un timing incredibile. Grazie a tutti.